buongiorno eccolo ne da fare scalette dio campo eh ah ma la gioia ma glielo giù così appeso ma via non vuoi vedere niente ma buongiorno buongiorno sto cazzo ma ma perché eh grazie mille eh grazie mille per questo fantastico prosciutto fa vedere un po' che c'è scritto Federico ecco qua grazie mille grazie mille grazie Alessandro ringrazio ringrazio Alessandro oh salumificio grazie Alessandro oh grazie grazie perché il prosciutto è una cosa sacra vero è sacra eccolo guardate che prosciutto sto prosciutto è spettacolare si trova anche sulla guida salumiditaria grazie mille adesso però l'affettiamo ma tu sei un papa cattivo ma son papa stronzo papa stronzo primo saluta si son